buonasera buonasera e benvenuti al magazzino di anna borrelli a casa di anna e gerry che adesso ci raggiungerà mi verrebbe anche da dire buongiorno perché c'è ancora la luce questo è fantastico fosse tutto l'anno così io sono sicura che camperei dieci anni in più allora benvenute quindi a questa terz'ultima puntata della stagione della stagione attenzione perché poi ci ritroveremo a settembre ma ci sono ancora altre andiamo chi è la prima che si è messa online la patrizia ce l'hai fatta allora allora internet ti sostiene ancora molto bene ciao lydia come la sara va bene evviva come vi avevo anticipato stasera tratteremo ancora una volta di borse è un progetto poi lo sapete a me piace sempre anche un po raccontare del perché vi propongo un argomento anziché un altro l'argomento di stasera è anche questo una marcord cioè era una una borsettina che avevamo fatto intanto è passato il gerry che va a spegne la televisione che ha lasciato acceso che avevo fatto con la mia amica donna rita troppi anni fa non diciamone neanche quanti per questo suo famoso libro sui jeans era una borsettina che mi era piaciuta tantissimo quella l'avevo realizzata io ovviamente perché mi ero occupata della ciao romina che mi dai della bella grazie e quindi ho voluto rifarla naturalmente salutiamo i buon bestetti vieni accomodati dai è come le star non si vuole mai fare inquadrai da lui telefono così che vedo un po leggermente indifferita quindi magari nel momento mi sono girata ho perso un po di amiche ecco qua ecco infatti vedo e allora per quel libro l'avevamo fatto in jeans io stasera ne ho comunque rifatta una recuperando del jeans ma non volevo comunque riproporvela in jeans perché per il momento ancora per un po la borsa in jeans deve essere quella fatta con concetta e in più perché voi sapete che io ho iniziato questa collaborazione con stop fabrics e quindi dovevo utilizzare volevo utilizzare i loro tessuti ma i tessuti che avevo a disposizione erano le classiche tirelline no quelle date da campionatura quindi relativamente piccole ciao francesca curiosissima io poi tra l'altro l'abbiamo io noi l'avevamo chiamata la borsa antitaccheggio perché è fatta particolare per cui è veramente difficile infilarci la manina dentro e non ha bottoni e ne chiusura e lampo un po di curiosità c'è ok vela vela dimostro giri adesso prendi anche il piccolo trespolino eccolo qua la stacchiamo dalla dai tre piedi grande adesso la posiziono su quello piccino per il buon bestetti tolgo il il selfie ambiate pazienza ecco qua grazie mille ma sempre così bellino perché non ti vuoi far vedere vabbè è bellino o no il mio maritino bellino poi c'è fatto anche taglio strategico con quelle file righe belle evidenti come pare che facciano i giovani allora la borsetta adesso vi faccio vedere la versione fatta jeans con questa diciamo un portacellulare con il particolare decorato e ci ho usato il lamifix quindi lo sapete quello stabilizzatore che plastifica un po il tessuto ma in più ci ho trattenuto anche della della glitter della porporina quindi il tessuto non è fatto così c'è dalla porporina gliel'ho messa io ma la cosa carina appunto di questa borsetta e ve la faccio vedere con i tessuti della sto fabrix eccola qua è che ha un coperchio in pratica vedete è fatta in questo modo quindi adesso voglio dire se ci sono commenti della serie oppure ma va che scemità voglio vedere i commenti allora ciao daniela bellissima che ti devi un attimo sbrigare a darmi quello che ti ho chiesto perché devo andare avanti con quegli altri progetti quindi come vedete perché la bolsa anti taccheggio perché non si può inserire dentro la mano a meno che il mal intenzionato ma intenzionato abbia la possibilità di alzarvi il coperchio del tutto e mettere la manina dentro vuol dire che voi state abbastanza dormendo quindi ma poi anche molto carina perché cosa un po una sagoma una un aspetto giapponese no queste un po schematiche lineari così io la trovo molto molto carina ah wow ci sta un wow ok grazie sandra molto importante è la fantasia che voi andrete a scegliere per dargli un'immagine anziché un'altra però per me o per la borsa il wow è sempre per te è vero no? ma se non ti fai vedere vedete quanti wow se ti facessi vedere ma anche le dimensioni ora martedì io vi darò le dimensioni non sto a dirvele adesso in diretta vi darò le dimensioni per ottenere questa borsettina però poi voi in rapporto seguendo le spiegazioni che vi ha adesso mi approccio a darvi la potete anche realizzare come porta che ne so pc c'è anche una borsa piuttosto grande e capiente e in quel caso però vi consiglio di usare dei oltre allo stabilizzatore che ho utilizzato io per dargli questo corpo perché solo il tessuto non raggiungerebbe mai questa consistenza ma per dargli anche una quindi oltre allo stabilizzatore dei tessuti un po più resistenti che siano delle copelle o delle lane dei tessuti da tappezzeria ancora meglio che sono già di per loro piuttosto resistenti e quindi potete avere delle belle borse cartella chiamiamole così quindi le dimensioni i tessuti cambieranno notevolmente l'aspetto che si darà alla vostra borsa così come anche la scelta del sostegno io per restare nel tema così romantico di questo bel tessuto ho scelto riprendendo anche una tonalità della fantasia un cordone ritorto e anche perché siamo ancora con la memoria fresca ai cordoni utilizzati per l'altra borsetta questa la faccio vedere per chi non avesse seguito la diretta della cordon bag che è per cui abbiamo realizzato questo tipo di borsa quindi andiamo sempre di borsa però appunto non più cordone ma tessuto allora andiamo nel vivo oltre alla realizzazione della borsa mi piaceva anche darvi qualche consiglio sull'utilizzo decorativo allora abbiamo detto che per questa porta cellulare chiamiamolo così ho usato il Lamyfix il Lamyfix poi avrete tutti i riferimenti i collegamenti sul blog i collegamenti per poterla acquistare una dice che non si sente niente non sentite? ma no Marisa non senti? io adesso non so le altre amiche ma se finora non ci sono stati ma no no si sente prova un po' a controllare il tuo il tuo telefono ora tolgo gli occhiali perché devo andare a vedere io quello che che vi devo spiegare allora voi seguite le indicazioni che vi darò sul blog www.annaborrelli.it da martedì per le dimensioni ma in realtà la borsa è realizzata è strutturata da dei rettangoli ed è chiaro si vede è un rettangolo più grande ma leggermente più stretto che dà il corpo principale io comunque li ho foderati è un rettangolo più basso e leggermente più largo per il coperchio quindi non ci saranno cartamodelli se non un consiglio sulle proporzioni vi tagliate i tessuti della scelti sia per quanto riguarda la parte esterna e della stessa misura per la fodera ripeto sono tessuti tutti diversi perché fanno parte di quel gruppo guardate che bei tessuti che veramente c'è stato un po' l'imbarazzo della scelta io ho preso questi qua ma ho già in mente come utilizzare tutti gli altri scompariranno allora per questo io appunto ho realizzato questa ho tagliato da questo tessuto i due rettangoli che andranno a fare il corpo e poi la fodera ma per dare corpo per dare sostegno alla nostra borsa dobbiamo utilizzare uno stabilizzatore piuttosto corposo questo è il Peltex che si applica al nostro tessuto in questo modo lo faccio sul tessuto quello principale è venuta a trovarci anche la nostra iris che era un po' che non veniva quindi non alla fodera perché la fodera poi ci serve per rivoltarla e noi vogliamo anche ottenere un vedere una stabilità una rigidità che poi non è rigida però è abbastanza sostenuta e lo faremo quindi sul tessuto principale come facciamo quindi il tessuto principale avremo il rovescio fronte noi quindi lavoreremo sul rovescio mentre invece questo tessuto ha un lato resinato quindi significa il lato dove ci sarà la colla si vede e si sente anche lo applicheremo sul nostro tessuto poi con una pezzolina di cotone che io uso da sempre il fazzoletto del mio papà lo bagniamo ma lo strizziamo anche bene bene perché non ci deve essere acqua ma deve essere bagnato un po' come faceva anche la nostra mamma la nonna per per stirare soprattutto quei tessuti belli difficili come il lino che si usavano questi sistemi qua poi adesso ci sono dei ferri da stiro fantastici che superano questi ostacoli il mio ferro da stiro fantastico si chiama suocera perché lei che mi stia o no è la tua mamma bottà sua che mi stiera tutto che mi dà una bella mano così quindi riprendite solo il piano da lavoro noi l'applichiamo sul nostro stabilizzatore poi con un ferro da stiro andiamo e stiamo quei 7-8 secondi vedi avvicinati per cortesia vedete come cambia cioè in pratica la parte che si sta attaccando va bene si sarà anche quello va bene si sta attaccando cambia perché lo il ferro lo sta asciugando e sono i soliti 7-8 secondi questo poi se non esagerate è sempre meglio meno che più perché meno perché poi nel caso potete sempre ritornarci sopra e poi ancora insistere se è troppo poi si rovina ve lo faccio vedere ancora più nell'esempio dell'amifix che è un altro tipo di stabilizzatore che ci serve per la decorazione la decorazione e che la dovete sempre comunque fare è un suggerimento creativo che vi do io in più ecco vabbè ma tu tanto non mi riprendi no giustamente ho ho una magliettina un po' scollata tra l'altro in quanto va la magliettina vedete questo decoro qua l'ho fatto io pensate un po' martellando delle violette martellando delle violette e poi ci ho cuscito dei cristalli per fare i pistilli e quindi prima era una maglietta anonima bianca e io gli ho dato un attimo di colore con dei fiori veri ok fatto questo il tessuto è stato quindi vediamo la differenza tra i tessuti che cosa devo andare a aprire l'iris scusate un attimo ecco aspetta che però metto un selfie eccolo qua scusate ma il buon Jerry deve andare a riprendere l'iris allora vedete la differenza tra un tessuto non stabilizzato e uno invece stabilizzato questo serve soprattutto quando noi alle nostre borse vogliamo dare corpo resistenza ancora di più se utilizziamo dei cotoni da un peso abbastanza leggero e in questo caso visto che ha una specie di tappo questa borsa dovevamo necessariamente dargli corpo rigidità e quindi abbiamo usato lo stabilizzatore la stessa cosa lo fate dall'altra parte ma non dalla fodera eccolo qua ecco qua grazie mille ecco quindi fate questo anche dall'altro lato ma non sulla fodera la fodera così come i due tessuti solitamente dimenticavo di dirvi solitamente questi tessuti una volta stabilizzati devono riposare le indicazioni delle macchie vanno dalla mezz'ora a un'ora in realtà perché devono riposare perché voi avete sciolto con la funzione del calore avete sciolto la colla quindi la colla sta ancora attivandosi se ci lavorate sopra rischiate di staccarla proprio perché la colla è ancora morbida si è sciolta quindi aspettate che si raffreddi che si stabilizzi appunto e ci lavorate ecco perché i tempi di attesa no? perché insomma la borsa deve durarvi ore e ore fate aspettare quindi si raffredde e unite le parti tra di loro come io adesso ve lo faccio vedere con la fodera dunque unite perché è un rettangolo sì i lati sono così dovrete uscire i due lati laterali appunto è un rettangolo con la parte più corta che fa base e altezza le due parti laterali e una base facciamolo comunque io vado alla macchina il buongeri resta seduto al posto mio ma tanto con la bernina è facile però il piedino è quello della tagli cusci qui davanti a parte che potrei usare anche il pulsante quindi senza senza pedana allora sto usando il piedino come no no va bene quadri bene se si vede bene posso anche avete visto io non ho la base perché soprattutto per i passaggi successivi che poi vi mostrerò ho bisogno proprio di avere un controllo di tutta la borsa e la base che per intenderci è questa mi darebbe un poco fastidio io per fortuna ho la possibilità di staccarla e quindi di lavorare solo con il braccino come braccio corto quindi vado a lavorare a fare la mia cuscitura un attimo indietro perché sono andata un po' troppo avanti faccio anche la funzione lago abbassato e poi mi faccio la base la base e l'altro lato lasciando una parte aperta ora questo è quello che voi dovete fare con i tessuti principali per la fodera che poi è questa ma io ve la faccio vedere adesso ecco qua per il tessuto principale che adesso sta riposando e quindi non solo andate a cuscire dovete fare la cuscitura in questo modo i lati lunghi e la base per la fodera invece ricordate di lasciare una piccola apertura alla base per le amiche che sanno cuscire lo sanno che serve per poter poi rivoltare il nostro lavoro questo soltanto per il corpo principale ok fatto ciò andiamo a fare la parte superiore anche la parte superiore sarà resa rigida dal nostro stabilizzatore però voi potrete anche dirmi ed è sarebbe anche giusto io non so se me lo dite ma vado a controllare ciao Elena bentornata grazie a Mancini stiamo facendo una borsa che ha un ricordo antico ma che potrebbe un po' essere ribattezzata la borsa antitaccheggio perché è fatta da un coperchio quindi la sua oltre a essere carina da indossare è anche comoda perché potete indossarla tranquillamente sull'autobus in metropolitana quello che sia senza dovervi soprattutto se andate in Svizzera sapete come è pericolosa quella zona quindi senza dovervi preoccupare di manine indiscrete e quindi la borsa che facciamo stasera è questa qua io ho detto doppio tessuto perché è chiaramente foderata ma non vi volevo svelare quella storia della dell'antitaccheggio ok risposto alle amiche che si sono messe adesso in diretta l'abbiamo detto la stessa cosa la facciamo quello di sopra ma se vogliamo utilizzare la decorazione lo dobbiamo fare prima di andare a cuscire la parte superiore che vogliamo decorare se la vogliamo decorare con il lami fix quindi come facciamo allora io qua ho già un esempio di quello che non deve accadere il lami fix a differenza della peltex che ho usato prima è molto sensibile al calore se voi insistete troppo essendo come una specie una sorta di pellicola di plastica può dare questo risultato che forse si vede bene anche a rovescio quindi attenzione a controllare la funzione del vostro ferro da stiro cioè quanto è potente a fare sempre prima delle prove se non l'avete già usato allora voi prendete un tessuto che vi piace facciamo conto questo il vostro lami fix io ho usato quello con l'aspetto lucido poi se volete mettere della porporina prendete la porporina scegliete magari noi lo dobbiamo fare con il rosso e fare un po' di contrasto scegliete la porporina e distribuitela sulla superficie lì dove poi avete intenzione di estrapolare il motivo decorativo non insistete tanto sui bordi come ho fatto io qua perché poi dovete trattenerlo molto e lo dovete fare con la cucitura quindi ricordate di lasciare i bordi abbastanza liberi al più magari insistete un po' al centro ecco qua quindi poi posizionate la nostra pellicola sopra eccolo qua in questo caso qua prendiamo sempre una pezzolina di cotone ma questa volta deve essere asciutta la posizioniamo sopra quindi se per lo stabilizzatore precedente abbiamo lavorato sul rovescio qui lavoriamo sul diritto sul ferro da stiro 6-8 secondi però il mio è piuttosto potente quindi abbasso la funzione dal massimo a due tacche e andiamo dal centro verso l'esterno a stirare contando questi 6-8 secondi però ripeto il mio è veramente molto forte e quindi vado abbastanza veloce ecco qua saluto intanto tutte le amiche che sto vedendo adesso online controllo che sia sufficiente ok non solo è sufficiente ma io mi sono stirata anche il piano da stiro eccolo qua fatto questo vado a posizionare lì dove voglio non solo appunto il tessuto classificato ma anche la porporina il motivo che ho scelto di di cucire sulla mia borsetta in questo caso insomma magari il cuore che è una forma molto semplice e facile da cucire poi naturalmente per chi ha una maggiore praticità di cuscitura potete scegliere anche dei soggetti un po' più costruiti un po' più complessi però io dire il cuore piace sempre anche in questo caso noi dovremmo aspettare a che si raffreddi sempre per la storia della colla che abbiamo detto prima però noi non abbiamo tantissimo tempo per cui andiamo a tagliare la nostra sagoma ok io ne avevo già preparate eccola qua per esempio questa è una con la porporina ma altrimenti senza avrebbe un aspetto del genere ma vi dirò di più voi potete anche lavorare con le carte se avete delle belle carte fate la stessa cosa che ho spiegato per la stoffa questa è carta delle belle carte che aveva la mia amica Elena che è stata mia ospite per tutti i progetti fatti appunto con la carta quindi avete delle belle carte ho ancora un'idea molto romantica per chi ha dei figli ancora di più se sono piccolini fatevi fare dei bei disegni e plastificateli e cusciteli sul tessuto è un bellissimo ricordo di un regalo fatto dai vostri figli poi i disegni fatti dai bambini sono sempre straordinari e bellissimi potete anche fare dei bisous con questo sistema va bene fatto ciò quindi lo vogliamo applicare sul tessuto in questo caso sarà il tessuto che mi farà da coperchio andiamo a prendere quello che è eccolo qua in questo caso qui te sono mi devi dare la sedia ecco qua grazie ecco vediamo un po' carina eh io adoro giocare un po' con con questi abbinamenti andare anche un po' fuori dai soliti canoni perché perché così bisogna divertirsi quindi oltre alle indicazioni che noi diamo dei suggerimenti voi sperimentate sempre avete visto che ho cambiato il piedino con il numero 20 questo perché perché io ho bisogno di controllare a parte che devo fare un punto zig zag ho bisogno di controllare la mia lavorazione quindi imposto lo zig zag eccolo qua metto la posizione del piedino qua lo faccio un po' più stretto perché voglio stretto quindi più fitto perché voglio essere certa che il punto della porporina che comunque fa isola e rischia di passare dall'altra parte sia ben ferma e il punto di zig zag un po' più largo ok facciamo sempre prima una prova e vediamo un po' ecco qua quindi con il mio piedino 20 mi vado a fare la cuscitura trattenendo il motivo decorativo a quello che sarà la parte alta della mia borsa che ripeto non necessariamente scusa tesoro che uso l'asta della gamba per poter girare non necessariamente dovete dovete fare la decorazione questa è un'idea in più che io vi sto regalando il modello della borsa è bella anche senza decorazione però ecco appunto per avere un elemento in più ok quando voi avete completato tutto lo zig zag e quindi avete trattenuto con delle foto ma come no che bella idea anche la foto però rafforzala sempre con il lame fix un po' perché comunque la proteggi da da quello che che saranno dei forse dei lavaggi perché è la verità la borsetta con la carta lavare non lo so che effetto dà io suppongo che sia abbastanza stabile la pellicola che lo isoli però nel caso prima di sciupare una foto fai una fotocopia della tua foto la plastifichi la cusci e vedi l'effetto che ti dà buon dì Lucia l'amica che è stata estratta la settimana scorsa e che ha avuto un post sulla mia pagina l'avrà per tutto l'anno così lo sapete per tutti coloro che condividono questo video ogni volta il video che vado a fare io estrarrò un'amica e l'amica estratta avrà un post personalizzato così come è stato per Irena e la settimana scorsa per Lucia questa settimana è stata estratta come nazione una cara amica che lo vedrete domani sono tutti post tutti diversi ok io ho attaccato alla parte alta del mio cuore vado a plastificare a irrigidirlo con il Peltex sempre come vi ho fatto vedere prima ecco si prova scichetti e fammi sapere perché comunque con con le foto io non l'ho mai fatto e questo è una bellissima idea è un suggerimento diverso che proprio mi piace mi piace proprio ok diciamo che non è proprio i secondi giusti ma voglio un poco andare avanti ecco qua allora quindi l'abbiamo decorato l'abbiamo irrigidito e andiamo ad assemblarli allora l'assemblare di questa adesso lo faccio vedere questo ho già cuscito per la parte alta per poter consentire il passaggio del cordone e quindi la la stabilità il sostegno vedete che è tutta cuscita ma ha soltanto delle aperture banalissimo come si fa voi se usate come me il piedino come riferimento che è il margine di cuscitura riferimento al margine di cuscitura allora avvicinati bene bene Gerry dalla parte dal punto del piedino vi distanziate di un centimetro e mezzo chiaro lasciate uno spazio di altrettanto centimetro e mezzo e la stessa cosa fate dall'altra parte quindi l'apertura che ci occorre è di un centimetro e mezzo naturalmente questa apertura sarà anche in proporzione a ciò che voi sceglierete di far scorrere come tracolla perché naturalmente se voi usate un foulard una vecchia cintura recuperata o qualsiasi altro materiale fate sempre la prova che il passaggio sia agevole e che non sia bloccato quindi comunque è importante fare sempre una prova in base al materiale che voi scegliete quindi noi cuciamo la parte alta lasciando questa misura che abbiamo scelto libera e andiamo a rivoltarla per quanto riguarda la fodera e lo stesso anche per la parte che abbiamo irrigidito io questa quindi l'ho già fatta e ci posso lavorare perché intanto sebbene raffreddato il mio lavoro questi sono ancora gli altri tessuti ecco vedete questa è la parte diritta la sua fodera poi il coperchio con la sua fodera come l'assembliamo allora per quanto riguarda il tessuto principale noi dobbiamo cuscire tutto il bordo superiore ecco perché vedete alla fodera ho lasciato un'apertura quindi faremo diritti contro diritti e per essere comodi li vestiamo proprio li infiliamo uno dentro l'altro perché dobbiamo far corrispondere le cusciture laterali io veramente faccio il passo passo calcolando pensando che all'ascolto ci sia chi non ne sa assolutamente niente quindi abbiamo detto diritto contro diritto uniamo le cusciture laterali in questo caso grazie Jerry mi serve di nuovo la sedia in questo caso sarà comoda la clip della clover perché la clip e non lo spillino perché noi l'abbiamo stabilizzato cioè abbiamo dato un sostegno al tessuto che con lo spillo per trattenerlo per fermarlo sarebbe un po' antipatico duro e bucheremo il tessuto mentre invece con la clip otteniamo lo stesso scopo cioè quello di trattenere i tessuti senza rovinarlo senza far fatica nell'usare come se usassimo gli spilli vado a ricambiare il mio piedino uso di nuovo questo con la soletta trasparente che nel mio caso è il 39 ah Jessica ciao ragazzi ma tutti in ritardo siete stasera e beh ma vi capisco cioè adesso le giornate si allungano poi il tempo lo consente si ha più voglia di stare stare fuori vedete perché io ho tolto il piano da lavoro perché vista la dimensione della borsa io ho bisogno di lavorare su una superficie piuttosto ridotta togliendo il piano da lavoro avendo soltanto il braccino principale io non ho alcuna difficoltà a cuscire perché appunto come vedete sempre a piedino io vado a ah io era lo zigzag devo dire che è una cosa che mi dimentico sempre quando devo passare da un punto all'altro che vado in automatico e non controllo mai stavolta ce l'ho fatta quindi mi vado a cuscire tutta la circonferenza sono contenta Carmela che ti fa piacere che io dica proprio anche le cose più ovvie proprio perché effettivamente molti amici che mi hanno scritto nel tempo ma soprattutto in questi ultimi giorni alcuni mi hanno detto io proprio so zero di cuscito però ti sto seguendo mi sta piacendo perché io devo trasmettervi una passione un piacere quindi devo ridurre se possibile ai minimi termini le difficoltà quindi i miei progetti pur avendo delle costruzioni un po' particolari come la borsa stasera in realtà è facilissima quindi voi vi fate la cuscitura tutto intorno al bordo della nostra borsetta di quella che è il corpo principale e grazie all'apertura che abbiamo lasciato alla fodera andiamo a rivoltare al diretto poi comunque questa apertura l'andremo a chiudere con o una cuscitura nascosta a mano oppure adesso io non lo faccio con la macchina perché ho usato un filo di un colore in contrasto per farvi vedere la rovinerei perché ha una bellissima tonalità di rosa se faccio la cuscitura con il blu se vedi troppo non mi piace la farò dopo con un colore in tinta ma quello che è importante che voi adesso facciate è quella di rimetterla all'interno di inserire un po' di spingere verso l'interno la fodera in modo tale da nasconderla cioè perché se fate così come viene in automatico la vedete potrebbe anche essere un motivo decorativo perché no però io non lo voglio la voglio nascondere quindi la spingo verso il basso ancora meglio faccio un colpo di ferro da stiro per trattenere bene i tessuti andiamo facciamo questa parte così lo vedete anche voi nonostante io abbia le mani ecco qua vedete io lo spingo di 2-3 mm all'interno così sono sicura che non si vedrà ma sarò ancora più sicura che non si vedrà perché gli faccio una cuscitura per trattenerlo adesso è un po' peccato perché questa stoffa è talmente bellina che fare la cuscitura mi un po' mi dispiace però va bene è necessaria perché con il tempo potrebbe comunque spostarsi nonostante io l'abbia stirata ben bene quindi la cuscitura mi serve ad accertarmi che questo punto non si sposti che non emerga riemerga nuovamente la fodera quindi la scelta del filato dovrà essere quella più adatta il colore che più vi piace in questo caso potrebbe essere un lilla un turchese o quello che sia quindi adesso io ve lo faccio vedere in quello nero che appunto era nero non si vede e sta bene e quindi sono sicura che appunto come ho detto la fodera è ben trattenuta all'interno fatto quindi questo passaggio noi andiamo a unire la fodera e la parte alta ma in questo caso a differenza della corpo principale scusate vado a prendere il telefono nel caso vi facciate qualche misura Paola Rewind le misure le troverai tutte nel blog martedì questo perché come poi troverete nell'articolo del blog potrete anche adattarle io vi do un'indicazione le mie misure sono state anche un po' condizionate dal tessuto che avevo a disposizione che erano delle tirelline di campionatura quindi non tanti metri a disposizione che però ecco quante di voi hanno degli amici anche tappezzieri che regalano quelli che sono proprio i campionari dei tessuti e voi anche con i campionari di tessuto proprio usando tessuti da abbinare insieme potete in ogni caso realizzare questa bella borsetta allora come avete visto anche per la parte alta ho unito la fodera con il corpo principale diritto contro diritto facendo combasciare le cusciture laterali ma in questo caso non la vado a cuscire tutta quanta Carmen ti saluta Carmen cedrola o cedrola Carmen io oramai con questi cognomi ho l'ansia a te ti si è bloccato il video Jessica però vabbè dai che rimane in memoria per cui potrai sempre sempre rivederlo anche qui come vedete il braccino mi consente di poter fare le cusciture tranquillamente quindi inserisco e qua non ho messo le clip sono andata liscia senza le clip esatto Ketty si può fare delle misure che voi volete ecco perché io non ritengo tanto importante darvi le misure adesso perché è la miseria che velocità che ha preso era rimasto il punto all'indietro ne potete adattare così come volete non so far trasformarlo in ipad che quindi prendete le misure dell'ipad e la l'adattate portacellulare avete non lo so dei libri perché siete delle studentesse delle insegnanti quindi avete bisogno di riporre degli oggetti in particolare ecco allora quello che io non ho fatto prima beh lo faccio ancora un altro poco dai dovete a differenza quella della parte che vi ho dimostrato prima lasciare un'apertura questa apertura mi consentirà di rivoltarlo al diritto altrimenti come si fa vediamo un po' magherita come cosa allora chiaramente è un po' durino perché noi abbiamo usato lo stabilizzatore che ci serviva proprio per dare sostegno e quindi questo passaggio un po' antipatico ma lo si fa tranquillamente ecco qua rivoltato al diritto andiamo a ecco qua spingere anche questo all'interno qui lo rifiniamo l'apertura la rifiniamo con dei punti di cuscitura nascosti o con una cuscitura vista come abbiamo fatto per il modello nero che la cuscitura non si vedeva tanto lo rivoltiamo all'interno lo tratteniamo ed è importante che sia il tutto ben fermo perché a questo punto io dovrò inserire quello che ho scelto come cordone allora innanzitutto ciao Stefano è un po' che non ti vedevo come va ecco qua allora ah no era un ciao ok ciao ciao Margherita andiamo a stirarci bene la nostra fodera all'interno ecco qua il ferro lo mettiamo al massimo era un po' abbassato ah Carmela sì infatti quello di jeans fatto appunto con il recupero e adesso vabbè questo è particolarmente grande perché conto di metterci oltre al telefono anche almeno che ne so i fazzoletti visto che io sono sempre raffreddata ho le chiavi di casa quello cioè proprio il minimo indispensabile però voi le potete proprio trasformare proprio un po' porto cellulare o porta tablet veramente le misure voi le adatterete allo scopo finale al quale intendete indirizzare dedicare la vostra borsa allora trattenete con il ferro da stiro l'orlo io veramente non vorrei cuscirlo proprio perché mi dispiace mi dispiace ecco quindi usiamo a questo punto eccolo qua mi è comodo il serpentello cambia inquadratura Jerry quando così allora a questo punto mi è comodo il serpentello perché mi serve da far passare attraverso quel centimetro e mezzo che abbiamo lasciato libero naturalmente io ve l'ho fatto vedere alla fodera ma la stessa cosa sarà fatta anche al tessuto principale cioè perché se fate tutta una cucitura l'avete fatta alla fodera sì brave ma poi troverà non trovando il buco qui non vi servirà nulla quindi quella lo spazio che vi ho dimostrato sulla sulla fodera lo dovete fare anche al tessuto principale allora scegliete il cordino in mio caso ma facciamolo di questo colore qua bello allegrotto allora che ti mi sta dicendo che lei adora particolarmente il jeans e infatti io ripeto ho voluto comunque fare una piccola borsettina di jeans proprio perché secondo me questo è un modello che si presta al jeans e anche perché la la borsa fatta insieme a donna rita era fatta appunto di jeans quindi era questo omaggio al passato avete visto che io all'estremità del cordino ho fatto un doppio nodo mi serve perché devo trattenerlo se non l'avessi fatto nonostante la cucitura rischierei con i lavaggi di aprire l'estremità e di farlo scivolare in questo modo invece sono sicura che resterà sempre ben salda alla nostra borsetta quanto la faccio lunga anche qua fate una prova su di voi quindi io l'appoggio su di me stabilisco che la borsetta deve avere più o meno questa lunghezza quindi anche qui la misura non ve la do perché le altezze sono personali però alla lunghezza che mi occorre rifaccio il mio doppio nodo ricordo che cos'è il doppio nodo voi fate un primo nodo poi rientrate nuovamente all'interno dell'asola che si è formata vedete che si è creata una spirale l'andate a compattare ecco perché doppio nodo perché vedete ci sono due strati è un unico nodo ma con un doppio passaggio solitamente si utilizza anche tra i nodi marinari quindi dalla pesca allora vado comunque a trattenermi la parte lunga del mio cordone per evitare che si sfilacci vado a tagliare e io la mia tracollina la devo chiaramente applicare come faccio faccio la prima estremità la fisso e lo faccio momentaneamente scusate vado fuori campo mi prendo una clip la fisso momentaneamente in posizione dove in posizione corrispondente alla cuscitura laterale con la mia clip qua perché devo andare a cuscire appena sopra il il nodo e vado alla macchina allora l'ideale qui per avere un bel controllo della cuscitura sarebbe il piedino spostati tesoro cortesemente grazie il piedino per la chiusura lampo eccolo qua il numero 4 lo vado a mettere sposto chiaramente l'ago perché altrimenti mi va sul piedino e me lo spacca il punto è sempre lineare naturalmente non è un punto astruso ecco qua allora fermo e mi faccio la mia cuscitura adesso io sto in piedi scusami tesoro vi faccio anche difficoltà in piedi più che altro perché questo essendo un cordino non basterà una sola passaggio ma io ci devo ritornare ancora quindi vado indietro ripasso ancora sopra poi di nuovo indietro cioè in pratica lo trattenete bene con una serie di di passaggi avete trattenuto un'estremità adesso mi dispiace che il filo è in contrasto vabbè poi dopo lo risistevo con un filo in tinta perché io vi ho detto mi serve il serpentello perché a questo punto io dovrò farlo passare all'interno del mio coperchio e se non avete il serpentello potete usare una spilla da balia comunque tutto ciò che serve io sto sudando ma solo io Jerry no madonna sto grondando ok saranno le luci della dell'inquadratura serpentello cosa faccio passo all'interno della mia fodera del buco della fodera vado a beccare eccolo qua e la stessa cosa faccio all'interno del buchino della borsa quindi passo dall'altra parte e faccio scorrere il cordino stessa cosa farò dalla parte opposta questa volta naturalmente entrando quindi dalla borsa becco il buchino della fodera che non lo vedrò mai per cui che cosa faccio me lo spingo un po' eccolo qua ripasso me lo riporto al diretto e vado a cucire l'estremità opposta come ho fatto per quella iniziale quindi la posiziono lateralmente e la trattengo con dei punti di cuscitura per ottenere la mia borsettina la faccio velocemente così ve la faccio vedere semi finita vedi io vi ho dimostrato non solo come realizzare la nostra borsettina anti taccheggio o portacellulare o borsettina con i coperchi adesso poi se volete potete trovarci anche voi un nome più indicato ma anche come poterle personalizzare con i decori della Lamifix eccolo qua adesso questa deve essere stirata tutta bella colorata questa qua guardate che carina la mia borsettina come cambiano no di di aspetto naturalmente voi tagliate i fili che cedono la stessa borsa come cambia fatta in jeans e con il decoro così per dare un po' di di luce perché altrimenti era un po' smortina io esagererei ancora come cambia con un tessuto così una stampa floreale di aspetto botanico sai che sembrano quelle cartelle botaniche ecco qua io a me piace non so voi allora vediamo un po' bella concetta ti piace benissimo che è successo ah le bimbe mi ero spaventata perché ho letto lascia che litighino oddio chi è che si sta litigando per una borsetta poi no le bimbe Sara no vai vai poi tanto lo sai che potrai sempre sempre vederlo questo video ok la mia borsettina è terminata anche tutorial di oggi spero vi sia piaciuto settimana prossima è la penultima devo dire la verità ragazze che le ultime non so proprio che cosa proporvi se voi avete dei suggerimenti benvengano la piega si è fatta benedire perché sono tutta tutta sudata e quindi il capello tra un po' ritornerà mezzoliccio però ci vediamo domani con il post dedicato all'amica che è stata estratta per aver condiviso la mia diretta e sabato con i consigli di Anna sabato invece so già che cosa fare è un'idea molto carina voi lo sapete i sabato sono delle dirette molto veloci vi ho detto tutto spero di sì scusate se non vi ho risposto eventualmente a delle possibili domande più grandina Nadia sì io vi ho detto l'ho fatta leggermente piccola perché i tessuti che avevo a disposizione erano di questa dimensione qua quindi chiaramente più grande non potevo non potevo farla però devo dire che non mi dispiace perché almeno per una volta eviterò di portarmi tutta la casa dietro questa è la mia tendenza ok ragazzi dopo vado a leggere tutti i commenti se vi è piaciuto condividete il video anche per partecipare all'estrazione ricordate di mettere il like però la pagina altrimenti non varrà anche se siete stati estratte non varrà dovete mettere mi piace alla pagina dobbiamo farla crescere questa pagina e ci vediamo nei prossimi giorni martedì con l'articolo su blog vi love ragazze grazie ciao ciao